Farmacisti dal 1897 La farmacia a chiavetta può vantare una storia di onorato servizio che dal 1897 prosegue a oggi offrendo professionalità e attenzione alle necessità di tutti. Presso la farmacia, oltre alla vendita di farmaci, si effettua la vendita di prodotti di veterinaria e dermocosmesi. Dotata di laboratorio galenico, realizza preparazioni magistrali, dispone di autotest diagnostici ed effetto a servizio a domicilio gratuito. Grazie a tutti!